Ringrazio la signora Crespi, la signora Bolognesi per questo invito perché è sempre piuttosto piacevole frequentare gli ambienti del biologico e del biodinamico, in generale di quello che io chiamo agricoltura ecologica, so che ci sono delle differenze, le capisco però insomma è tutto quello che è un pochino più avanti rispetto all'agricoltura tradizionale, rispetto all'agricoltura industriale che già è stata citata più volte nell'intervento del dottor Francardo. Io di formazione sono un bio, mi presento per buona educazione, di formazione sono un biologo ma mi sono occupato per tantissimi anni di zoologia ambientale perché la mia speciale, su animali molto diversi, cioè dagli invertebrati, addirittura invertebrati che vivono nel suolo e che richiedono l'utilizzo del microscopio per poter essere visti, fino a vertebrati di grandi dimensioni insomma. E poi dopo un certo momento ho cominciato a interessarmi di questioni biomediche e in particolare degli effetti dei cancerogeni ambientali sull'uomo e per la verità anche su altri animali perché la mia specialità poi è sempre stata la solita, cioè io mi sono sempre occupato di interazione organismo ambiente sia negli individui, anche se il lavoro con gli individui è sempre molto ostico e secondo me la ricerca scientifica non si basa sull'utilizzo degli individui come oggetti di studio ma sulle popolazioni, lo studio delle popolazioni dà un sacco di informazioni che si tratti di acari oppure di pesci oppure di grandi mammiferi, lo studio delle popolazioni dà un sacco di informazioni sulla biologia, sull'ecologia degli organismi e soprattutto sulla loro evoluzione che è una dimensione importantissima di qualsiasi lavoro che abbia a che fare con le scienze della vita. Poi dopo vi farò vedere anche una slide a questo proposito. Quindi da più di 15 anni io mi interesso fondamentalmente di esseri umani e dei cancerogeni ambientali che aumentano il rischio di tumori, di tutta una serie di tumori di cui poi più avanti magari vi dirò qualche cosa. Allora una delle prime cose da registrare nella mente quando ci si occupa di scienze della vita, a mio modo di vedere, è l'importanza dell'ambiente. Sembra una cosa scontata ma non è così perché buona parte della ricerca biomedica, soprattutto quella molecolare, negli ultimi 20-30 anni ha sondato meccanismi molto raffinati di funzionamento delle cellule e scordandosi però molto spesso che le cellule non è che lavorino così sempre perché c'è un genoma all'interno che le fa funzionare in una maniera prescrittiva, in una maniera già pronta. In realtà il genoma è una cosa importantissima che però funziona soltanto, funziona bene soltanto se intorno c'è tutta una serie di stimoli ambientali che lo attivano. Il genoma di per sé non fa nulla, è una delle molecole più ferme, più pigre che ci siano, tant'è che noi lo utilizziamo a volte quando vogliamo andare a vedere adattare per esempio gli animali fossili, riusciamo ancora a recuperare un po' di genoma da pochissimi, da frammenti di tessuti che rimangono sottoterra e riusciamo a vedere le sequenze proprio perché il genoma, il DNA sostanzialmente è una molecola inerte, se non c'è qualche cosa, e di solito sono le proteine che lo muovono, che lo attivano, il genoma di suo non fa nulla. È un discorso importante, c'entra tantissimo con l'agricoltura, questo perché appunto vi dicevo l'importanza quindi è l'importanza per l'attivazione di qualsiasi sistema biologico che ci sia un ambiente, questo però che vedete non è un ambiente, questo potrebbe essere quello che vediamo per esempio su qualsiasi pianeta di quelli non troppo lontani dalla terra, cioè una serie di condizioni fisiche al massimo geologiche e chimiche, ma se non c'è vita non c'è un ambiente, ci sono delle condizioni di tipo fisico. E la stessa cosa vale al contrario per la vita, non esiste una forma di vita, per come la conosciamo noi al momento almeno, che non abbia un ambiente intorno. La vita esiste se c'è intorno un ambiente, una serie di condizioni ambientali che devono essere in qualche modo facilitatrici dei processi vitali e in qualche caso anche limitanti. Laddove c'è poco ossigeno gli organismi aerobi come noi durano poco per esempio. Quindi per poter parlare di vita e per poter parlare di ambiente noi abbiamo bisogno di queste due cose qua. Questa è la base di qualsiasi discorso, non soltanto sulla zoologia o sull'ecologia, è la base di qualsiasi discorso nell'ambito delle scienze della vita. Un grandissimo genetista del Novecento, un bel po' di anni fa, perché qua siamo all'inizio degli anni settanta, scrisse un articolo su una rivista per insegnanti dicendo una delle cose che poi vengono riportate di frequente dalle persone che fanno il mio lavoro, che nulla in biologia ha senso se non alla luce dell'evoluzione. Ed è proprio così perché noi riusciamo a dare un senso ai processi vitali soltanto se riusciamo a leggerli in un'ottica storica, cioè in un'ottica evolutiva. In realtà l'ottica evolutiva è soltanto il primo pezzo di questa storia qua, la seconda ottica è quella ecologica, cioè quella ambientale, cioè noi quando guardiamo, osserviamo e studiamo gli organismi abbiamo bisogno di avere una dimensione temporale, l'evoluzione, e una dimensione ecologica, lo spazio. Senza l'integrazione di queste due dimensioni noi rischiamo di vedere e o di capire molto poco di quello che stiamo studiando. Dico questo perché il discorso sull'importanza, sul significato evolutivo di quello che noi vediamo in natura o che noi cerchiamo in qualche modo di manipolare organismi di vario tipo attraverso la selezione che si fa in agricoltura o attraverso addirittura a tecniche molto più sofisticate come le tecniche di ingegneria genetica che servono a produrre piante o altri organismi geneticamente modificati, ha un senso, tutto questo ha un senso se noi riusciamo a vederlo alla luce dell'evoluzione, ma io parlerei di evoluzione non soltanto in senso biologico, anche in senso culturale. Cioè, e qui vengo a questa immagine che non voleva ovviamente spaventare nessuno, per dirvi che questo è per esempio un dinosauro predatore che piace moltissimo ai bambini, il Tyrannosaurus rex, grandissimo predatore di circa cento e oltre milioni di anni fa che insieme a moltissime, quasi tutte le specie di dinosauri, è scomparsa per un evento ambientale disastroso che ha completamente scombussolato tutte le forme viventi sul pianeta, cioè l'impatto con un enorme asteroide, sembrerebbe nella penisola dello Yucatan, ma poi pare che fosse più di uno, insomma le ipotesi sono tante, però questa specie insieme a molte altre è scomparsa perché non è stata in grado di sopravvivere ai cambiamenti ambientali che si sono verificati a seguito di questo fortissimo impatto con questa cometa. Da un punto di vista ecologico l'agricoltura tradizionale, l'agricoltura industriale è questo, è un fossile, non ha nessun senso, è completamente priva di senso, perché esiste? Viene mantenuta in vita, ma si tratta di una vita artificiale, viene mantenuta in vita attraverso tutta una serie di sussidi, di aiuti, anche di politiche un po' folli, anche in Europa, un po' peggio negli Stati Uniti oppure addirittura un po' peggio nei paesi che non hanno ancora una normativa ambientale e sanitaria sviluppata, però questo tipo di agricoltura viene mantenuta in piedi a forza, non ha nessun motivo di esistere oggi. Se noi ragionassimo come ragionavano gli agricoltori di tantissimo tempo fa, tutto quello che comporta questo tipo di agricoltura scomparirebbe nell'arco di mezza giornata. E questo perché? Perché noi abbiamo una condizione planetaria, abbiamo degli indicatori che studiamo quotidianamente di salute planetaria che danno dei segnali, io dico di preoccupazione per non usare delle parole forti, l'allarmismo non mi è mai piaciuto e devo dire che l'allarmismo è sempre il peggior nemico, è sempre stato il peggior nemico delle battaglie ambientali, quindi non mi piace l'allarmismo, però bisogna anche dire la verità alle persone e le verità, o meglio, le cose più vicine a una verità scientifica che noi riusciamo a vedere, le vediamo dalla letteratura scientifica e dal lavoro di ricerca che facciamo quotidianamente nei nostri laboratori. Noi siamo entrati in una fase della storia del pianeta che viene definita l'antropocene, in cui una sola specie biologica del pianeta, cioè la nostra, è riuscita a sbilanciare, a deteriorare alcuni fenomeni che fino alla, diciamo, fino alla rivoluzione industriale, cioè fino al Settecento, in qualche modo funzionavano ancora abbastanza bene. D'accordo? Dalla rivoluzione industriale in avanti, questi meccanismi hanno cominciato a funzionare in maniera sempre più difficoltosa e tra i tantissimi effetti che noi vediamo nell'agricoltura, nella gestione delle risorse naturali, eccetera, ci sono anche gli effetti sulla nostra salute. L'idea che sta sotto il modello economico dominante è un po' questa, io non sono un economista, non voglio fare l'economista, però da ecologo vedo questo, che l'idea di ambiente che passa attraverso questo modello economico è che c'è una divisione totale tra l'economia umana, che fino a prova contraria comunque è un'invenzione nostra, è una nostra invenzione sociale e non è detto che sia l'unico modo di fare economia, e l'ambiente naturale, cioè noi utilizziamo l'ambiente come serbatoio di risorse, il primo modo di utilizzare l'ambiente, e poi lo utilizziamo anche in un altro modo, lo utilizziamo come discarica. Questo è il nostro modo di rapportarci all'ambiente e questo ha creato tutta una serie di guai che noi chiamiamo malfunzionamenti dei servizi ecosistemici, che ora vi farò vedere. Che cos'è un ecosistema? Allora, di per sé la definizione di ecosistema detta in maniera molto semplice, un ecosistema è un pezzo di territorio dove c'è una comunità biologica, cioè un insieme di specie vegetali, animali e di microorganismi che interagiscono tra loro. Un bosco, anche un bosco planiziale come quelli che ci sono qua intorno, è un ecosistema. E noi ci siamo evoluti all'interno di ecosistemi che non erano ancora perturbati così fortemente come lo sono oggi. Le faggette, tutti gli ecosistemi, vi faccio vedere qualche slide giusto per farvi capire quali sono gli ambienti naturali dove per esempio si è sviluppata la popolazione del sud dell'Europa, del Mediterraneo. Questo è un bosco appenninico, questo invece è un bosco alpino, un bosco misto di conifere, sono questi i posti dove noi ci siamo evoluti. E la nostra evoluzione è probabilmente durata centomila anni. Per centomila anni noi siamo stati in questi ambienti qui, la macchia mediterranea. Andando nel nord Europa troviamo ovviamente degli ecosistemi di tipo diverso, ma questo è il posto dove noi ci siamo evoluti. E qual è l'importanza di capire il funzionamento degli ecosistemi? E' che gli ecosistemi, grazie alla loro diversità biologica, che è alla base come vedete di questo diagramma di flusso, riescono a produrre tutta una serie di beni e di servizi che noi chiamiamo servizi ecosistemici, che ci mantengono in vita, che ci mantengono in salute, che fanno funzionare le nostre economie. Il nostro benessere non ci pensiamo mai perché noi quando parliamo di beni e servizi siamo abituati a pensare ai beni e ai servizi di cui parla l'economia, cioè non ai beni e ai servizi ecosistemici. Milano, considerata la capitale italiana del terziario, del settore dei servizi, ma questi servizi non hanno nulla a che fare con i servizi. Ci occupiamo sempre più di servizi che non hanno a che fare con la natura, ma nel frattempo i servizi forniti dalla natura cominciano a non funzionare più e questo diventerà la fine anche degli altri servizi che ci siamo inventati con le nostre culture molto molto agganciate a un modello economico che non funziona più. Quali sono questi servizi ecosistemici? L'impollinazione di piante selvatiche e coltivate, il controllo degli infestanti delle culture agricole, la purificazione dell'aria e dell'acqua. Voi pensate a quello che sarebbe un'economia di un paese che ha soltanto acqua inquinata. Non funzionerebbe più niente, oltre al fatto che sarebbe dannosissima per noi, non funzionerebbe più nulla. Se non c'è acqua non funziona nessun impianto industriale. La preservazione dei suoli e della loro fertilità, la decomposizione e la detossificazione delle sostanze tossiche. La ciclizzazione e la movimentazione della materia. La materia che da organica diventa inorganica e poi da inorganica torna ad essere organica. Questo ciclo è garantito dalla biodiversità, in particolare stiamo parlando della biodiversità dei suoli. La stabilizzazione e la regolazione del clima, il controllo del clima è un altro servizio ecosistemico che ci viene fornito, non solo, ma principalmente dalle grandi foreste che noi stiamo distruggendo. Questa slide è la sintesi di quello che vi ho detto. Per avere delle popolazioni in salute noi abbiamo bisogno di servizi ecosistemici all'interno di ecosistemi che funzionano e che funzionano bene. Allora, vi ho fatto vedere prima che la base di questo funzionamento fisiologico normale degli ecosistemi è la biodiversità. La biodiversità del pianeta noi l'abbiamo proprio contata, l'abbiamo misurata e espressa, non è l'unico modo per esprimere la biodiversità, ma è un modo semplice e molto immediato per capirla. Uno dei modi più utilizzati per parlare di biodiversità e contare il numero di specie biologiche che ci sono sul pianeta e sapendo benissimo che noi ne abbiamo scoperte soltanto una parte. Allora, qua viene riportato un dato che è ancora abbastanza basso, perché è un dato del 92, ma dà bene l'idea di come è distribuita la diversità sul pianeta. Il pianeta è degli insetti, dal punto di vista della variabilità e della biodiversità. Il pianeta è in mano agli insetti, sono loro i veri proprietari del pianeta, che hanno, qua viene definito 750, viene dato come numero 751.000 specie, in realtà oggi siamo quasi a un milione di specie. E fanno un lavoro pazzesco, noi li detestiamo per cultura, ma vi garantisco che fanno un lavoro pazzesco in tutti gli ambienti in cui vivono. Noi siamo qui, il nostro gruppo tassonomico è qua, questa fettina blu, ci crediamo i padroni del pianeta, ma noi siamo la fetta più piccola di questa torta che ci fa capire come è distribuita la biodiversità sul pianeta. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che noi la stiamo cancellando questa biodiversità, la stiamo cancellando con tutta una serie di attività umane, attività industriali, attività commerciali, attività agricole. Vi sto facendo un'introduzione al discorso sull'agricoltura che poi vi farò, perché è importante capire il motivo per cui serve, è diventato inevitabile occuparsi di biodiversità. Le stiamo eliminando, noi stiamo eliminando questa grande variabilità che l'evoluzione biologica ci ha fornito e che aiuta accampare la nostra specie. E questo è uno dei dati che si raccoglie, questo qui è il dato del Global Living Planet che viene dato ogni anno o ogni due anni e che ci dice che dagli anni settanta ad oggi, se si tornasse a contare il numero delle specie, avremo una riduzione della metà. Le specie che conosciamo si sono ridotte della metà. Non sappiamo nulla sulle specie che non conosciamo, che invece probabilmente sono la stragrande maggioranza delle specie presenti sul pianeta, perché noi conosciamo soltanto un frammento della biodiversità che popola il pianeta. Questo è un articolo di Science molto bello che ci fa vedere, molto bello e anche un po' inquietante ovviamente, ci fa vedere come si stanno riducendo le popolazioni di lepidotteri, cioè di farfalle in sostanza, in tutti gli ambienti del globo e le popolazioni di tutta una serie di altri invertebrati che sono fondamentali per il mantenimento dei suoli, per il funzionamento dei suoli, per il funzionamento dell'impollinazione e che garantiscono servizi ecosistemici anche all'agricoltura. Questo è un lavoro fatto invece sui vertebrati, pubblicato da una grandissima rivista di quelle che controlliamo noi che si chiama Conservation Biology, vedete che anche tra i vertebrati tutte le linee di misura dell'andamento della biodiversità dagli anni 70 ad oggi ci dicono che c'è una riduzione delle popolazioni. Questo è il frutto di un monitoraggio che è stato fatto dall'International Union for Conservation of Nature, cioè la UCN è la più grande agenzia mondiale dell'ONU ovviamente, per il monitoraggio della biodiversità del pianeta e questo monitoraggio ci dice che la biodiversità sta scomparendo con un ritmo che è da mille a diecimila volte quello che dovrebbe essere il ritmo naturale della scomparsa delle specie, perché l'estinzione è un fenomeno naturale, c'è sempre stata l'estinzione, ma noi abbiamo accelerato questo processo a livello globale di un valore che è compreso tra mille e diecimila volte. In alcuni articoli di riviste piuttosto prestigiose come Nature si dice ma quindi siamo entrati nella sesta grande estinzione di massa. Sappiamo benissimo dalla paleontologia che ce ne sono state cinque che ci hanno preceduto, che sono quelle citate qua, quella dell'Ordoviciano, quella del Devoniano, quella del Permiano, quella del Triassico di cui parlavamo prima a proposito dei dinosauri, e quella del Cretaceo. Quali sono i principali determinanti della perdita di biodiversità? Sono tantissimi in realtà, le variabili in gioco sono moltissime perché poi ci sono delle differenze da aree in diverse aree del pianeta, però noi sappiamo che la madre di tutti i problemi è il cambiamento climatico. Questo è il processo di deterioramento del clima è una cosa che ai congressi ci si guarda in faccia e si dice questa è una cosa impressionante. Questa è impressionante perché probabilmente è il motivo per cui stiamo eliminando un sacco di vita sul pianeta. Poi dopo c'è l'inquinamento chimico di cui il mio tema di ricerca e di presentazione oggi, la frammentazione e la distruzione dell'habitat, quindi cementificazione, costruzione di infrastrutture, abbattimento di foreste vergini per coltivare cose che non si sa bene a che cosa servono come le famose coltivazioni soprattutto in Africa e in Asia di olio di palma, il prelievo intensivo di risorse biologiche e qua mi dispiace ma c'entrano anche la pesca e la caccia e poi il quinto fattore determinante è l'interazione tra queste cose perché queste cose interagiscono. Là dove c'è un forte esito ambientale dovuto al cambiamento climatico le specie resistono meno anche all'inquinamento chimico, quindi le cose interagiscono, i determinanti, cioè le cause del deterioramento ambientale interagiscono tra loro e gli effetti sono sempre imprevedibili, noi li andiamo a vedere dopo, come quando si parla dei grandi incidenti oppure delle alluvioni, problemi legati alla non cura idrogeologica del nostro territorio, si va a contare i morti dopo, ma non riusciamo a prevedere questi fenomeni e bisogna dirlo chiaramente, noi abbiamo dei modelli, riusciamo a fare dei modelli basati sulla statistica ma dobbiamo sempre fare degli scenari che variano moltissimo tra loro, nessuno è in grado di prevedere quali saranno gli effetti per esempio della perdita di impollinatori. Ora prima vi ho fatto vedere una serie di slide per farvi vedere dove si è evoluta la nostra specie, questo è invece il modo di vita di oggi, questi vengono chiamati anche questi ecosistemi urbani, questa è l'ilva, questa è una foto appresa dal mare dell'ilva, il grande impianto siderurgico di Taranto dove non so se sapete la storia, noi ce ne siamo occupati a Milano ce ne siamo occupati anche in modo piuttosto pesante, anche con qualche esito negativo per noi, questa qui è la terra dei fuochi tra Napoli e Caserta, questa qui è l'Eternit dove si sono prodotti per decenni residui di asbesto che è fortemente cancerogeno e soprattutto colpisce la pleura, determina una malattia che si chiama mesotelioma pleurico che è uno dei più brutti tumori che esistano e poi abbiamo fatto questo, abbiamo reso l'agricoltura questo, un territorio piatto dove per decine, centinaia, migliaia di ettari a seconda delle zone del pianeta, noi troviamo una sola specie coltivata dall'uomo a suon di fertilizzanti chimici, di pesticidi, di consumi d'acqua spropositati e questo è un altro territorio agricolo, in un'altra fase certo della sua attività. Ci stiamo riempiendo di chimica, è stato già affrontato prima questo problema, ma non soltanto per gli effetti dei pesticidi, adesso ci arriviamo ai pesticidi, abbiamo tutta una serie di sostanze chimiche, il più grande archivio di sostanze chimiche mondiale è negli Stati Uniti ed è possesso della società ovviamente statunitense di chimica, un archivio preziosissimo, ci sono un sacco di informazioni, bene in questo archivio sono registrati e registrato più di un milione di sostanze, più di un milione di sostanze tra sostanze naturali, ma la gran parte sono sostanze di sintesi, che sono quelle che conosciamo meglio ovviamente. È una cifra spropositata, questo non significa che circolano tutte, molte sono lì, non sono mai state approvate perché restavano dubbi sulla loro salubrità, però il fatto che al mondo esistano oltre un milione di sostanze di cui probabilmente più della metà sono sostanze di sintesi è un po' inquietante e quello che noi vediamo poi nella letteratura scientifica è questo, noi stiamo medicalizzando l'ambiente, stiamo medicalizzando l'ambiente perché poi le sostanze che utilizziamo non c'è una soluzione, non sono qua per fare, però è bene essere consapevoli di questo, l'ambiente non è stressato soltanto dai pesticidi, nelle acque troviamo per esempio gli antinfiammatori e in questo articolo si parla particolarmente degli antinfiammatori che finiscono ovviamente nei fiumi e poi nei laghi e poi nei mari per via delle acque di scolo ovviamente attraverso le fogne. Questo è uno studio che fa la valutazione degli effetti del tamoxifen che è un farmaco che si utilizza per il trattamento del cancro al seno, il tamoxifen nei corsi d'acqua dove fa fuori un sacco di piccole faune degli ambienti acquatici che sono importantissimi. Questa è la presenza di cocaina in 19 città europee, in questo studio è compresa Milano, è una delle città più inquinate, i corsi d'acqua che attraversano il milanese sono tra i più ricchi di cocaina di tutta Europa. È inutile che vi dica come ci arrivano. Questo è un bellissimo studio fatto da dei colleghi di un'altra università che fa vedere come anche il Po sia stato, qua viene studiata l'Itiofauma, cioè vengono studiati i pesci che vivono nel Po che sono risultati positivi quasi tutte le specie che sono state monitorate, gli interferenti endocrini. Gli interferenti endocrini è un altro modo per parlare dei xeno-extrogeni, soltanto che non sono soltanto estrogeni, ha anche degli altri effetti. Gli interferenti endocrini sono tutte quelle sostanze di sintesi, possono anche essere naturale, ma di solito ci si riferisce a quelle di sintesi, che interagiscono con il nostro sistema ormonale, in particolare con le ghiandole sessuali, quindi con le ovaie e con i testicoli nei maschi, la tiroide, i surreni e l'ipofisi, cioè tutte queste ghiandole importantissime per l'orchestrazione chimica, per la gestione, il controllo chimico del nostro organismo, interagiscono appunto con le ghiandole endocrine e in alcuni casi portano a degli esiti di carattere sanitario, anche questi non proprio piacevoli. Questo è uno studio ovviamente, tra l'altro molto bello dal punto di vista metodologico, sugli effetti dei pesticidi nella biodiversità delle acque dolci. Sono stati studiati i fiumi di due paesi europei, la Germania e la Francia, e poi i fiumi australiani, e anche qua vediamo che c'è una perdita di biodiversità del 42%, a livelli, attenzione, a livelli di contaminazione che sono considerati livelli entro la legge, però anche i livelli entro la legge non garantiscono la tutela della biodiversità delle acque, il problema è questo, anche perché poi sono talmente tante le sostanze che si rinvengono nei corsi d'acqua, che lì c'è anche un effetto misture, ed è il solito discorso, più sostanze tendono a interagire l'una con l'altra potenziando l'effetto tossico sugli organismi target. Questo è sempre un altro studio sugli insetticidi e questo è quello che vediamo, perché questo succede nei paesi occidentali come nei paesi, i cosiddetti paesi in via di sviluppo. Stanno aumentando le guerre in un sacco di zone del mondo, ma sono guerre ambientali, di cui i nostri giornali non parlano mai. Questo qui è il Corriere della Sera che si rifà una serie di articoli che sono comparsi sulle riviste di biomedicina che ci dice che ormai è stato fatto un atlante mondiale delle malattie sensibili al clima, sono tante. Il Bangladesh, di cui se ci sarà tempo vi farò un accenno alla fine, ma non mi voglio soffermare per motivi di tempo adesso, è la palestra in cui si fanno questi studi qua, è diventato un caso internazionale per cui il clima sta aumentando tutta una serie di malattie, soprattutto l'ipertensione, l'ipertensione nelle mamme gravide che diventa un doppio problema, che destano preoccupazione nell'OMS soprattutto. Questo è un altro studio bellissimo che ci fa vedere come la globalizzazione delle merci, la globalizzazione delle persone, la globalizzazione delle merci e la globalizzazione dei problemi di tipo ambientale abbia oramai un effetto, che viene detto un effetto di salute globale. Tutti siamo esposti a una serie di fattori che sono cancerogeni, ma a volte sono mutageni, ma a volte sono neurotossici, eccetera, 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 a cui nessuno può chiamarsi fuori, cioè il problema riguarda tutti perché tutti siamo esposti a queste cose. Questo è un articolo su Ebola che crea un altro tipo di problemi, non mi fermo. E queste sono le cose che leggiamo in letteratura. La biomedicina, sono pochissimi anni che la biomedicina si occupa di ambiente, la formazione medica non prevede un corso sul rapporto che esiste tra salute e ambiente. Ancora oggi in Italia non esistono questi corsi, sono anni che noi chiediamo come biologi di entrare nelle facoltà di medicina, perché abbiano almeno un corso i medici in cui si parli della relazione che esiste tra salute e ambiente. E questo non viene fatto. E non viene fatto, non credo che ci siano, non mi piacciono i retropensieri, non penso che esistano delle eminenze grigie, non viene fatto per una forma di pigrizia accademica. I medici devono occuparsi fondamentalmente di cura. Tutto quello che riguarda la prevenzione è lasciato un po'. La separazione, questo è un articolo del British Medical Journal, insieme a Lancet una delle riviste più importanti per i medici, la separazione tra l'essere umano e il modo in cui egli vive si configura come il più grande problema di salute pubblica del futuro. Altro articolo che dice sostanzialmente la stessa cosa. Ci siamo, come direbbe Montalbano, amminchiati con il pil. Hai voglia di andare a fare gli studi epidemiologici sulle popolazioni che sono esposte per esempio al glifosate? Trovi, trovi gli esiti, li trovi. Però dopo uno si chiede ma perché continuano a circolare queste sostanze qua? E questo non sarebbe il mio compito. Non è il mio compito andare a capire perché si continuano a utilizzare tonnellate, milioni di tonnellate in tutto il mondo di queste sostanze e nessuno fa caso al fatto che questo crea dei problemi ambientali e di salute pubblica enormi. Stiamo pensando, abbiamo la testa da tutt'altra parte e quello che polarizza di più l'interesse dei politici, dei banchieri, dei grandi uomini di potere è questo. Nessuno va a vedere poi che le curve di aumento del pil dal 700 a oggi sono andate di pari passo con l'aumento della CO2 in atmosfera e quindi con il cambiamento climatico con una deforestazione selvaggia ovunque, guardate che parlo ovunque, intendo anche l'Italia, andate a vedere che cosa succede nel Trevigiano dove per coltivare prosecco sbancano le colline e qua se c'è qualcuno di Ecor sa di che cosa sto parlando. Con l'estinzione delle specie, cioè il pil non è la nostra medicina, come qualcuno continua a farci credere o pretende di farci credere. Il pil è la nostra malattia. Questa è la valutazione che fanno i ricercatori dell'impronta ecologica. L'impronta ecologica è un indicatore, come tutti gli indicatori ha dei limiti, diciamo che guarda la realtà in grana grossa, come quando si è sull'aeroplano, si vede il territorio molto per grandi linee, però si riesce a vedere il grande disegno del territorio. Ecco, questo è un indicatore che lavora più o meno con quella prospettiva lì e fa la valutazione di quanto una certa area di territorio può produrre biologicamente, la sua biocapacità, e quant'è quella che viene effettivamente utilizzata dalla popolazione che ci vive sopra. E noi stiamo lavorando, questo lo diceva benissimo se ho capito bene perché sono arrivato un po' tardi stamattina, lo diceva bene la signora Crespi questa mattina, noi stiamo consumando non gli interessi che la natura ci dà ogni anno in termini di risorse rinnovabili, noi abbiamo intaccato il capitale e come sapete il capitale intaccato tende a dare meno interessi l'anno dopo e quindi gli interessi che ci restituisce la natura in termini di risorse rinnovabili sono sempre meno, quindi ritorniamo a intaccare il capitale. Questo è un circolo vizioso che bisogna affermare, quello che ci dice questo grafico molto immediato dell'impronta ecologica è che fino agli anni 80 eravamo all'interno di un consumo sostenibile, dagli anni 80 in poi il nostro consumo è andato oltre la sostenibilità del pianeta e quindi attualmente, facciamo che noi siamo qua, noi stiamo utilizzando un pianeta e mezzo di risorse, cioè stiamo consumando molto di più di quello che dovremmo consumare se volessimo restare all'interno dei limiti di rinnovabilità delle risorse, cioè quello che noi chiamiamo sostenibilità. Una cosa è sostenibile in senso ecologico, poi dopo c'è anche la sostenibilità economica, ma in senso ecologico un'attività umana è sostenibile se resta all'interno dei limiti di rinnovabilità delle risorse. Non lo facciamo più e non lo facciamo più, probabilmente da metà degli anni 80, anche se ovviamente i trend erano già visibili prima. Quindi quello che succede è il cosiddetto overshoot day, cioè il giorno in cui abbiamo superato il consumo sostenibile, ogni anno è sempre prima. L'anno scorso era stato nella seconda metà di agosto, quest'anno è stato l'8 di agosto, l'anno prossimo sarà luglio probabilmente. E arriviamo al dunque, perché qua l'agroindustria dà un contributo enorme, probabilmente è la principale fonte di deterioramento ambientale. Questa è l'agroindustria. Grande, altissima meccanizzazione, altissimo uso di chimica e di acqua, non scordiamoci mai i consumi d'acqua, perché il pianeta ha sete. In questa fase importante della storia della Terra, e quindi a causa soprattutto del cambiamento climatico, la questione dell'acqua diventerà una questione importante, quella su cui si giocano tra l'altro la maggior parte dei conflitti per le risorse sul pianeta. Questo è il nostro modo di allevare gli animali, a suoni antibiotici, tutto per onorare il dettato del PIL, della crescita economica a ogni costo, quando sappiamo benissimo che viviamo in un pianeta di risorse finite, sì rinnovabili, ma finite, per mantenere un sistema di distribuzione alimentare di questo tipo, e per mangiarci queste porcate qua. Tutto questo è gestito non interamente, ma per la maggior parte, da cinque grandi gruppi industriali a livello mondiale. Questi sono i nomi... ecco io ho sempre un po' di problemi poi quando torno al lavoro e qualcuno pubblica, per questo che prima ti dicevo, magari non filmare proprio tutto, comunque. Questi sono i grandi gruppi industriali che hanno per esempio il controllo dei semi, allora otto compagnie stanno controllando, poi ci sono state delle fusioni, ci arriviamo adesso, però fino a qualche giorno fa sapevamo che c'erano otto compagnie che controllavano il 70% del mercato dei semi, in tutto il mondo, otto compagnie, sei compagnie controllavano il 75% del mercato dei pesticidi, otto compagnie controllavano il 65% del mercato dei fertilizzanti chimici, quattro compagnie controllavano il commercio e la trasformazione e queste sono le food companies, cioè i brand che noi vediamo a supermercato, che sono questi, che però se poi io li riunisco vedo che sono soltanto dieci, dieci giganti che controllano tutto quello che noi troviamo a supermercato. Sì, adesso torno indietro perché, scusate, ho fatto questo salto, fa venire il mal di testa queste. Ok, questo lo assaltiamo, tra l'altro i dati che vi ho dato adesso sono già vecchi, perché noi sappiamo che è di questo mese la notizia che sapevamo già che i preparativi probabilmente sono cominciati anni e anni fa, ci avevamo già provato negli anni 50, questo non viene detto dai giornali, ci hanno provato già negli anni 50 Bayer e Monsanto a fondersi, poi per problemi legati a un mancato accordo sulla fusione dei capitali la cosa è saltata. Adesso ci sono riusciti. Dunque, la fusione di Bayer e Monsanto va di pari passo alla fusione di altri due giganti che sono Dow Chemicals e DuPont e un'altra fusione che è quella tra Singenta e ChemChina. I cinesi sono diventati fortissimi in questo settore. Quindi noi ci ritroviamo con una situazione in cui il mercato dei semi, per buona parte, a parte una piccola percentuale residua, che io non sono in grado di quantificare in questo momento perché non esistono dei dati precisi, il mercato dei semi e quello dei pesticidi è nelle mani di tre commercianti a livello globale. Che questi ci provino è abbastanza normale. La cosa che non è per niente normale è che le authority di antitrust che ci sono negli Stati Uniti e in Europa non abbiano detto una parola su queste fusioni. Queste cose sono vietate. Significa creare dei colossi, significa creare dei colossi che di fatto creano un oligopolio e poi presto un monopolio di risorse che sono le risorse alimentari. Non stiamo parlando di automobili. Francamente se la Fiat si fonde con Chrysler mi interessa poco, ma se lo fa una compagnia, se lo fanno tre, quattro, cinque compagnie che vendono semi, cioè che vendono le cose che mangiamo, il discorso è tutto diverso. Perché qua ne va della sovranità, della sicurezza e della salubrità alimentare di tutti i paesi del mondo, compresi quelli che abitano nelle aree in cui esistono queste multinazionali, cioè dove hanno i loro quartieri generali, anche gli americani dovrebbero preoccuparsi, anche se la maggior parte di queste multinazionali sono americane, come quartier generale, poi hanno diramazioni in tutto il mondo, i cittadini americani dovrebbero preoccuparsi. E in California si preoccupano, soprattutto in California. che cosa ha portato a tutto questo? Ha portato che da 250.000 a 300.000 piante ufficialmente classificate e studiate attualmente, di cui tra 40.000 e 50.000 comestibili, oggi ne utilizziamo soltanto tre per fornire il 60% delle calorie che consuma la popolazione mondiale, e cioè riso, mais e grano. Tre piante sono il 60% dell'alimentazione mondiale. Un altro effetto, la perdita, circa un quarto di quello che viene prodotto in termini alimentari a livello mondiale viene perso durante la filiera, o in fase di produzione, o in fase di trasformazione, o durante la distribuzione, o durante la vendita, il commercio. Tutto questo produce una perdita di un quarto, il che significa che tutte le materie prime che sono entrate nella filiera vengono oggettate alle ortiche. E mi riferisco soprattutto all'acqua. Un quarto. Certo, un quarto. Se lei vede qua, quello che si perde è il 24%. Questo oligopolio di compagnia mondiale sta producendo un altro fenomeno, noto come land grabbing, che significa acquisizione di terra, acquisizione di territorio. Cioè, non contenti di quello che riescono a coltivare nei paesi occidentali, vanno e acquisiscono con metodi non sempre molto ortodossi, terreni nei paesi del terzo mondo. Cioè, il caso da manuale è quello delle grandi coltivazioni di olio di palma, di cui si parlava prima. Non voglio entrare nel merito della qualità nutrizionale, non è il mio mestiere, anche se non è un grande alimento l'olio di palma, ma è la devastazione che sta producendo nell'Africa equatoriale, in alcune aree dell'Asia e in alcune aree del Sud America. L'olio di palma è un prodotto industriale, tra l'altro. Adesso non c'è prodotto da forno al supermercato che non lo contenga, anche se vedo che alcune aziende si stanno un po' liberando di questa cosa. E questi sono i paesi dove si fa il land grabbing, cioè le macro regioni globali dove si sta facendo il land grabbing. Vedete che prevalentemente Sud America, Africa è un pezzo dell'area dell'Asia meridionale. C'è un bellissimo libro che io vi consiglio di una sociologa americana che si chiama Saskia Sassen, che scrive che c'è un tentativo attraverso le varie attività, attraverso la finanziarizzazione dell'economia, ma attraverso soprattutto alcune attività che sono importantissime al mondo, come l'agricoltura di sussistenza. La maggior parte della gente che vive al mondo oggi e che fa agricoltura nei paesi in via di sviluppo, fa un'agricoltura di sussistenza. Ecco, tutta questa gente è destinata ad essere espulsa. Lei ha scritto questo libro bellissimo che vi consiglio, che si chiama espulsioni. Lei si è occupata moltissimo di queste cose negli ultimi vent'anni e questo è uno dei motivi per cui noi quello che stiamo vedendo, i demografi soprattutto più che gli ecologi, uno spostamento delle popolazioni dalle aree rurali, sia nei paesi in via di sviluppo sia nei paesi sviluppati, dalle aree rurali alle aree urbane. Cioè si stanno abbandonando le campagne perché la gente in campagna non campa più. Ovviamente qui siamo in una eccezione, in una eccezione di altissimo livello e di grande acutezza, ma il trend generale è questo. La gente si sta spostando tutta nelle città e sapete che cosa significa? Che l'agricoltura finirà in pochissime mani e le mani sappiamo benissimo quali sono. Ok, i pesticidi. I pesticidi sono uno dei perni dell'agricoltura industriale. Oggi pomeriggio ci sarà il professor Bettinelli, Benedettelli, scusa, che benedirà sicuramente più di me, ma l'agricoltura che si fa adesso si fa con sementi che senza questo apporto di chimica di sintesi probabilmente non vivrebbero una settimana se messe in campo. Non lo si dice mai, ma le sementi vengono selezionate per poi essere foraggiate con quantità enormi di fertilizzanti industriali e di chimica di sintesi antiparassitaria, per far fuori l'erbaccio, per far fuori i funghi, eccetera. Noi di solito utilizziamo queste classificazioni, stiamo a guardare più che la famiglia, siano insetticidi, fungicidio, stiamo a guardare se producono delle reazioni acute con i test tossicologici, guardiamo se sono cancerogene, e molte sono cancerogene, lo sappiamo, guardiamo se sono distruttori endocrini e poi andiamo a fare altre valutazioni di tossicità come la tossicità riproduttiva, la tossicità neurologica che è importantissima, eccetera. Queste sono le vendite globali, vedete che per la maggior parte i pesticidi vengono dati su cereali, una cosa che è poco meno della metà, e poi altri, anche su altri prodotti vegetali, queste sono le vendite di pesticidi a livello mondiale e quasi la metà è in erbicidi, lo sappiamo benissimo, sono gli erbicidi i principali prodotti utilizzati a livello mondiale, ma anche perché sono in crescita i fenomeni di resistenza. Molte erbe che sono infestanti per l'agricoltura, di fatto poi si adattano al pesticida e quindi bisogna darne di più, oppure bisogna cambiare il pesticida e questo produce un turnover di molecole nuove che entrano nel mercato dei pesticidi, che non lascia grandi margini di ottimismo. Queste sono, ecco, qui, questa è una cosa che mi interessa, perché noi ne utilizziamo ancora tanti, questi sono i consumi per ettaro di pesticidi e noi ci collochiamo qui, siamo circa a 6 chili per ettaro di pesticidi, cioè siamo davanti alla Francia e alla Germania, noti utilizzatori di pesticidi. Il nostro territorio tra l'altro per la sua morfologia e anche per per la sua vegetazione, per la sua biodiversità animale non si presta a questo genere di utilizzo di pesticidi. Questi sono numeri troppo piccoli, non si vedono. Quello che si... Le fonti adesso non me le ricordo, però gliele posso dire. Questo è l'IABM, che è uno dei più grandi istituti indiani per lo studio della commercializzazione di agrofarmaci. Gli indiani sono grandi produttori insieme ai cinesi, quindi loro hanno dei veri e propri istituti di business agricolo che si occupano di queste cose. A Bhopal? Ma quello è un impianto industriale, è una molecola molto simile alla diossina, quella del famoso incidente di Bhopal, incidente indiano che è diventato un caso clamoroso, simile a quello di Seveso e ad altri. Però lì non stiamo parlando di sostanze date in agricoltura, quello è un incidente industriale proprio. Questa è la previsione che lo stesso istituto indiano che le dicevo fa sull'utilizzo dei pesticidi a partire dal 2006 e quello che ci si aspetta è che nel 2018 sostanzialmente aumenterà di più del doppio rispetto al 2006, il commercio globale. Queste sono le vendite in Italia di pesticidi. Si parte da un dato che è di poco più del 2001, si vede che nel 2002 c'è un aumento e poi dal 2002 fino ad oggi c'è una lieve flessione nella... bene, è un dato positivo, cioè tra tante cattive notizie è un dato positivo sapere che in Italia si sta cercando di utilizzarne di meno, ma sono sempre troppi. Cioè questi quantitativi sono sempre troppi perché comunque come consumo per ettaro siamo il primo paese europeo. E questa è la distribuzione, l'utilizzo a livello regionale. Come vedete il Triveneto è il primo, quindi Veneto, Trentino e Friuli, Venezia Giulia, insieme, costituiscono l'area a maggior intensità d'uso di pesticidi. Noi lombardi siamo qua un pochino sotto il Lazio e di seguito ci sono il Piemonte, ma più o meno, cioè ovviamente le regioni che ne consumano di meno, le regioni che ne consumano di meno sono le più piccole, chiaramente. No, no, questa è la distribuzione, chilogrammi per ettaro, chilogrammi per ettaro di sau, cioè di superficie coltivata, sau significa superficie agricola utilizzata. Questo è un dato ISPRA, è un dato del Ministero dell'Ambiente, quindi è il monitoraggio che fa il Ministero dell'Ambiente attraverso il suo braccio operativo. All'ISPRA, una questione sono le agenzie di monitoraggio come l'ISPRA, l'ISPRA sta per Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dove ho molti colleghi bravissimi che lavorano benissimo perché il monitoraggio che fanno le agenzie scientifiche dei nostri ministeri sono tra le migliori in Europa, bisogna saperlo questo, il nostro Ministero della Sanità ha un istituto che si chiama Istituto Superiore di Sanità, che funziona benissimo, dove il livello dei ricercatori è elevatissimo, bisogna dirle queste cose qua. Lo stesso al Ministero dell'Ambiente, abbiamo delle ottime istituzioni per fare il monitoraggio, soltanto che poi il monitoraggio fatto bene dà questi dati qua e allora ci si chiede ma i politici e soprattutto i decisori che sono dentro i ministeri, quando vedono questi dati che cosa pensano? Io penso che pensino ad altro e lo sappiamo benissimo che pensano ad altro. Quali sono i rischi? Allora c'è un problema che è quello della tossicità selettiva, noi i pesticidi vengono prodotti e venduti e commercializzati con di solito dietro l'etichetta le indicazioni per le modalità d'uso, a parte che adesso ci vuole il patentino, insomma è diventato tutto un pochino più complesso, però in generale ci sono indicati gli organismi target, nel senso che i pesticidi dovrebbero essere mirati a colpire soltanto particolari specie di organismi, gli insetticidi dovrebbero far male soprattutto ad alcuni gruppi di insetti, per esempio ai lepidotteri, cioè alle farfalle. Dopodiché si va a fare l'indagine post marketing e troviamo che la cosiddetta tossicità selettiva è una delle bolle, una delle più grandi fandonie che esistono, perché troviamo che sono tossici per i pesci, per gli anfibi, per gli insetti e poi via a salire anche nella gerarchia dei vertebrati, quindi rettili, uccelli, mammiferi. È classico questo, si va a vedere i test di tossicità, troviamo che il farmaco, l'agrofarmaco prodotto per quel particolare lepidottero di fatto poi è tossico per un sacco di altre specie che con quell'epidottero non c'entrano nulla. Lo sappiamo benissimo perché si diceva per esempio che alcuni pesticidi di nuova generazione, i cosiddetti neonicotinoidi perché sono copiati dalla nicotina e poi modificati in laboratorio per essere più resistenti nell'ambiente, sono devastanti per le popolazioni di api, in generale per tutti gli menotteri, cioè api, bombi, cioè tutta la famiglia di questi insetti importantissimi nell'ecologia del territorio, sono sensibili a questi, in alcune zone del pianeta sembra che la scomparsa di impollinatori, i menotteri, sia legata soprattutto, non solo, ma soprattutto all'utilizzo spesso dissennato dei neonicotinoidi. Questo è quello che succede in Cina, questo è un servizio abbastanza ben fatto da Repubblica che io non amo perché di solito gli articoli di Repubblica sono molto discutibili, la loro visione dell'agricoltura è molto discutibile tranne quando scrive Petrini qualche cosa di sensato ma non glielo fanno fare molto spesso. Quello che sta succedendo in Cina è che stanno scomparendo tutti gli impollinatori invertebrati, gli impollinatori non sono soltanto le apie, sono tantissimi insetti, quasi tutti gli insetti che voi volete quando si fanno le scampagnate qua nei boschi planiziali o in montagna, tutti questi insetti che vedete circolare sui fiori, sono tutti impollinatori, dopodiché impollinatori ci sono anche molti vertebrati. Allora, quello che sta succedendo negli Stati Uniti è altrettanto interessante, allora questi animali, i pipistrelli, nessuno ha mai avuto passione per i pipistrelli, pipistrelli e topi sono, ho scoperto che sono gli animali più detestati soprattutto dalle signore, non vorrei farne una questione di genere ma io invece amo molto tutti e due, sia i pipistrelli che i topi. Quello che sta succedendo è che il servizio ecosistemico fornito all'agricoltura statunitense dai pipistrelli, in termini di eliminazione dei parassiti dell'agricoltura, è stato quantificato, gli americani queste cose qua le fanno bellissimo, lo sappiamo, io li invidio molto perché riescono a tradurre sempre tutto molto bene in moneta, il servizio fornito all'agricoltura americana dai pipistrelli è stato stimato a 23 miliardi di dollari l'anno in pesticidi risparmiati. Cioè gli insetti, i pipistrelli sono dei pesticidi naturali che in maniera del tutto gratuita fanno quel lavoro che dovrebbero fare invece i pesticidi di sintesi lasciando dietro di sé una scia di effetti negativi, loro lo fanno gratuitamente per un valore di questo tipo, è una cifra spropositata, io vado sempre a rileggerla prima di darla, vado sempre a rileggere l'articolo originale perché, e qua stiamo parlando tra l'altro di un'unica specie che è il serotino bruno che c'è anche in Europa, un altro problema dei pesticidi è quello della deriva, la deriva è sostanzialmente la volatilizzazione dei pesticidi nel momento in cui si applicano perché la maggior parte delle molecole vengono applicate con delle attrezzature che nebulizzano e inoltre molte di queste sostanze sono volatili di per sé, è proprio una loro caratteristica chimico-fisica. Quindi noi li applichiamo in un punto di un campo coltivato, dopodiché li ritroviamo a chilometri di distanza in un'altra area e questo è quello che ci ha fatto vedere uno studio che è stato fatto sul lago di Como da Silvana Galassi che è una vecchia amica oltre che una grandissima ecologa dell'Università di Milano che è andata a vedere nel 2005, è andata a vedere quali erano i livelli di DDT nel lago di Como, va a vedere i livelli di DDT nel lago di Como, si sa che il DDT è stato bandito negli anni 70 e che quindi nessuno più lo usa, non è neanche più commerciabile, in Europa è bandito completamente il DDT. Però che cosa succede? Lei va a vedere la quantità di DDT valutando il bioaccumulo in alcuni molluschi, in alcuni bivalvi che vivono nel lago di Como e quello che trova è che negli ultimi due anni c'è un picco di concentrazione di questa sostanza e dice ma com'è possibile? Com'è possibile che ci sia un picco di concentrazione se questa sostanza non viene più utilizzata? Di solito c'era una concentrazione di fondo perché il DDT è abbastanza stabile, cioè è resistente, non viene degradato e quella era, è rimasta così per decenni e poi dal 2003 in poi comincia a salire nel lago di Como. Bene, la spiegazione gliel'hanno data i glaciologi, quello era tutto DDT che veniva dato negli anni 40 e 50 in pianura padana, essendo altamente volatili, con le correnti è finito sulle calotte ghiacciate delle nostre Alpi e nel 2003, non so se ricordate, c'è stato quel colpo di calore, quell'ondata di caldo pazzesca che ha investito tutta l'Italia, non soltanto la zona a nord e con lo scioglimento aumentato dei ghiacciai alpini il DDT nel lago di Como c'è finito attraverso l'Adda, che è il principale corso d'acqua che è attraverso la Valtellina e finisce nel lago di Como e quindi ci si è ritrovati con un DDT che era stato dato 50 anni prima. Questo è, e lo studio è pubblicato, si chiama Unspir, cioè una delle riviste di salute ambientale. Sì, certo. Sì, appunto, però dico come noi anche consideriamo l'Europa, però poi ti arriva con la bustina, il camomilla, il passante, gli DDT di quel calore. A distanza di anni abbiamo eliminato il problema degli DDT e abbiamo avuto quello della trazina. In queste zone qua, non molto, nelle risaie, soprattutto nelle risaie della Lomellina. Vabbè, questo è un articolo di Pimentel che è uno dei più grandi studiosi della distribuzione e anche del commercio e dice che soltanto una quota minoritaria dei pesticidi usati in agricoltura raggiunge gli organismi target. Lo sappiamo. Il resto si muove nell'ambiente e produce effetti. Vabbè, questa è la questione degli organismi che formano le resistenze, ne abbiamo già parlato. e questi sono gli effetti di biomagnificazione. No, ve la dico questa cosa perché è importante. Prendo ancora solo 5 minuti. Prendi 10 minuti. Grazie. Allora, sapete come funziona una piramide ecologica? Se non lo sapete ve lo dico in due parole. Tutti gli organismi, dal punto di vista dei flussi di materia, si organizzano in questo modo. Le piante stanno al primo gradino di questa piramide perché? Perché la grande biomassa, la massa biologica che c'è in natura è formata da piante. I produttori, noi li chiamiamo organismi produttori perché attraverso luce solare, un pochino di anidride carbonica, ovviamente un suolo abbastanza sano e acqua, riescono a fare delle cose miracolose, cioè fanno la fotosintesi in sostanza. Loro sono gli organismi produttori, cioè tutto quello che noi vediamo in natura dipende dal fatto che per fortuna ci sono le piante. Ai gradini superiori trovate invece, e lì la piramide comincia a stringersi, trovate i consumatori primari, cioè gli animali erbivori, che non sono soltanto i caprioli o i cervi, trovate gli erbivori che sono anche e soprattutto tutta la quantità di invertebrati che vive mangiando piante o parti di piante. D'accordo? Ovviamente questi sono meno perché via via che si sale nei gradini della piramide la biomassa tende a restringersi, ovviamente ci sono più piante che animali erbivori e ci sono più animali erbivori che animali carnivori. D'accordo? Quindi questa piramide che andrebbe vista in maniera dinamica di C1, C2, C3, C4 è una piramide che si stringe fino al vertice perché via via che si sale nella piramide si trova una biomassa che diminuisce. Che cosa succede? Che cosa succede però? Che quando io vado a misurare non la biomassa, ma la concentrazione degli inquinanti che si accumulano nei tessuti biologici, o una piramide rovesciata. Cioè via via che si sale nella piramide la concentrazione aumenta. Noi chiamiamo questo fenomeno biomagnificazione degli inquinanti. D'accordo? Sapete che molti inquinanti tendono ad accumularsi nei tessuti biologici, soprattutto quando si tratta di inquinanti lipofili. Quindi molti pesticidi sono lipofili, cioè si sciolgono bene nei grassi. D'accordo? I grassi che significa non soltanto, per quel che riguarda il nostro organo, non soltanto il tessuto adiposo. Noi abbiamo un sacco di grassi ovunque, nei muscoli, un sacco di grassi nel sistema nervoso centrale. Cioè tutte queste zone dove c'è grasso, queste sostanze vanno a depositarsi e danno bioaccumulo. Se anziché guardare i singoli individui, io guardo la piramide ecologica, quello che vedo è che via via che si sale nella piramide della biomassa, ho un'inversione della piramide della concentrazione di queste sostanze inquinanti. Questo succede per esempio per le lontre marine, che si nutrono di pesci in mari inquinati, ma questo succede anche nella nostra specie. E ovviamente i più esposti chi sono? I bambini. Soprattutto durante la fase della gravidanza e durante l'allattamento. Durante la gravidanza, perché gli inquinanti gli arrivano dalla madre attraverso il circolo placentare, e durante l'allattamento per via del latte. Se andiamo a cercare il DDT nel latte, troviamo ancora un sacco di DDT negli esseri umani. Allora, vi risparmio la parte sul glifosate. Non so se qualcuno di voi ha sentito questa campagna che oltre a lavorare per l'università, io lavoro per questa grande organizzazione, grande per me, scusate, ho usato un termine che non va bene, un po' troppo, autocelebrativo. Però per questa piccola organizzazione, che però sta facendo delle cose che secondo me hanno un senso, ISDE Italia, ISDE sta per International Society of Doctors for Environment, cioè i medici per l'ambiente, dove in realtà lavorano medici, biologi, chimici, degli statistici per fortuna. Allora, noi stiamo facendo questa campagna da tempo contro il glifosate, insieme anche ad altre organizzazioni, va detto, insieme anche ad altre organizzazioni, e sembra che questa campagna contro il glifosate, che è l'erbicida più utilizzato al mondo, e che è stato classificato come probabile cancerogeno per l'uomo dalla IARC, la IARC è la massima agenzia dell'ONU per lo studio del cancro, abbiamo fatto questa campagna perché si smetta di utilizzare questo erbicida, perché questo erbicida è un cancerogeno, un probabile cancerogeno, ma sappiamo benissimo che... Allora, lo troviamo nelle acque sotterranee e nelle acque superficiali, non ve li faccio vedere questi dati, perché poi a quest'ora diventano un po' noiosi, anche questo articolo che sarebbe... Però vi faccio vedere due, tre cose. Allora, questo è l'effetto degli interferenti endocrini. Gli studi più importanti sugli interferenti endocrini sono stati fatti su tre gruppi animali, sui pesci, sugli anfibi e sui rettili. Io ho un interesse particolare per gli anfibi perché sono molto predittivi gli anfibi. La loro risposta tossicologica è molto predittiva di quello che noi potremmo trovare nell'uomo. E quello che si vede quando gli anfibi vengono esposti agli interferenti endocrini, qua non si tratta di glifosate ma si tratta di atrazina, che ha più o meno gli stessi effetti del glifosate, anche se chimicamente è una molecola diversa, sono questi. Malformazioni nello sviluppo scheletrico delle larve, cioè quindi abbiamo una serie di arti sovrannumerari che non dovrebbero esserci, e femminizzazione dei maschi. Quelli che vedete che stanno facendo una copula sono due maschi. Cioè c'è un cambiamento delle cellule germinali, cioè degli ovociti e degli spermatozoi prodotti da questi animali, per cui gli spermatozoi, una volta che maturano, sono più simili a degli ovociti. E quindi ci sono dei problemi, noi la chiamiamo il problema della sex ratio, è il problema dell'equilibrio tra i sessi nelle popolazioni animali come nelle popolazioni umane, è esattamente la stessa cosa. Di fatto, gli studi che sono stati fatti sugli anfibi sono serviti per cominciare a preoccuparci di quello che sta succedendo agli spermatozoi della nostra specie. E la conta degli spermatozoi, la conta, cioè il numero degli spermatozoi, è in calo in tutte le popolazioni del mondo. Ovviamente mi riferisco solo ai maschi. Sì, ma come avete fatto capire che questi effetti sono dovuti all'interno? perché si fanno studi sperimentali di laboratorio in cui, che a me fanno sempre un po', non li faccio più, io ormai lavoro soltanto con dati al terminale perché facciamo dei lavori di tipo statistico sui dati che sono stati raccolti da altri, vengono fatti degli studi sperimentali in cui si confrontano degli animali che sono stati trattati con la trazina e animali che non sono stati trattati. Si vede, e il resto è tutto uguale, alimentazione, ambiente di vita, è tutto uguale. Quello che si vede è che negli animali trattati, questo è uno studio sperimentale, le sto sintetizzando in poche parole anche un po' banalotte, quello che è uno studio sperimentale. Dopodiché questi animali muoiono, vengono affettati e si va a vedere che cosa c'è nei loro organi genitali e quello che si trova nei maschi è questo dato. Io ho sempre un po' di difficoltà a parlare di sperimentazione animale perché ho una grande passione per gli animali e quindi dispiace. Devo dire che però, contrariamente a quanto a volte dichiarato pubblicamente dalle organizzazioni animaliste, credo che in alcuni casi siano ancora utili nella sperimentazione. Poi non scendo perché sennò apriamo un altro capitolo, magari c'è qualche animalista che poi stasera mi fa la pelle prima di andare a casa. Però il problema esiste, io ammetto che il problema esiste, cioè questo problema qua. Sono di laboratorio, sono animali portati in laboratorio, trattati con le stesse concentrazioni di atrazina che si trovano in natura, per esempio negli stagni, e poi si osservano, perché ovviamente se uno andasse a fare l'esperimento in natura, oggi trovi un animale, ma domani non lo trovi più. Quindi bisogna radunarli all'interno degli stabulari e fare questi studi di tipo sperimentale. Sperimentale perché? Perché si fa un esperimento dove tutte le variabili sono sotto il controllo del ricercatore. La temperatura a cui vengono mantenuti, l'alimentazione, eccetera, eccetera, eccetera. e l'unica cosa che varia dal gruppo sperimentale al gruppo di controllo è che nel gruppo sperimentale tu aggiungi l'atrazina e nel gruppo di controllo no. D'accordo? Sì, posso dire che sono un po' per esempio, parlavo un po' con una domanda che diceva che trovano tanti pesci malformati che ovviamente separano la perenda della mamma. Certo. Questo è un problema grosso e la butto lì per chi è interessato il prossimo 24 novembre noi come ISDE in questo caso faremo un congresso a Milano all'Università Bicocca proprio sugli interferenti endocrini perché ormai sono un problema che riguarda praticamente tutti i paesi del mondo e riguarda sia voglio dire l'aspetto ambientale ecologico perché è un rischio per le nostre faune e per le faune di tutto il mondo sia il problema sanitario perché questi effetti qua poi si vanno ecco, questo è un po' la sintesi degli effetti che noi vediamo su tutti i vertebrati uomo incluso uomo incluso allora alterazioni del sistema endocrino cioè di tutto quell'insieme di ghiandole che producono gli ormoni e che interagiscono con l'organismo alterazioni della funzione sessuale riproduttiva questo è un articolo pubblicato su una grande rivista di salute ambientale Environmental Health Perspective alterazioni della funzione sessuale riproduttiva attenuazione del dimorfismo sessuale e ermafroditismo cioè i maschi e le femmine non sono più tanto diversi riduzione della quantità di spermatozoi produzione di gameti anomali e con vitalità ridotta sapete che il problema dell'infertilità maschile soprattutto nei paesi avanzati sta diventando un problema grosso sterilità ipospadia e criptoarchidismo che sono due malformazioni che si vedono nella nostra specie e che si vedono anche in altre specie sono due malformazioni dell'apparato genitale se volete poi dopo vi do i dettagli di queste malformazioni noi a Milano le studiamo queste malformazioni nei bambini disturbi dello sviluppo e della metamorfosi malattie neurodegenerative cancerogenesi e teratogenesi cioè le malformazioni immunosoppressione e patologie del sistema immunitario aumento del rischio infettivo perché un effetto degli interferenti endocrini è quello di deprimere il sistema immunitario anomalie e malattie ereditarie transgenerazionali perché alcune anomalie colpiscono le cellule sessuali e si riproducono poi nella generazione successiva l'ultima parte di cattive notizie perché c'era anche la parte di salute pubblica sull'uomo e poi vi lascio allora chi è che andiamo a studiare quando vogliamo studiare gli effetti dei pesticidi andiamo a studiare i più esposti che sono gli agricoltori la popolazione degli agricoltori è la popolazione di elezione degli studi epidemiologici quando si vuole capire perché e come avviene l'esposizione e poi eventualmente l'insorgenza della malattia dovuta a pesticidi si sceglie di andare a studiare una popolazione di agricoltori gli americani come al solito questa cosa qui la fan benissimo e dall'inizio degli anni 90 seguono una corte cioè diciamo una popolazione di agricoltori nella Corn Belt cioè nella fascia del grano degli Stati Uniti dove si fa agricoltura intensiva con grande uso di chimica di sintesi e quello che hanno trovato è che in questa popolazione aumentano aumenta il rischio di queste malattie allora tumori del sistema emolinfopoietico quindi i linfomi sia gli Hodgkin che non Hodgkin e poi tutte le forme di leucemia e mieloma i tumori del cervello i tumori del labbro i tumori dello stomaco i tumori della pelle i tumori della prostata i tumori dei stessuti molli i cosiddetti sarcomi poi ci sono una serie di altre sedi tumorali di cui sembra aumentare il rischio ma non si è ancora certi e sono polmone colon retto rene e mammella queste sono le fonti le fonti bibliografiche che ci dicono in Francia il Parkinson è diventato una malattia professionale degli agricoltori perché uno degli effetti soprattutto degli insetticidi è quello di aumentare il rischio nelle popolazioni umane di malattie neurodegenerative tra queste il Parkinson è importante questa cosa perché gli agricoltori che in Francia si ammalano di Parkinson possono ricevere l'indenità assicurativa professionale in Italia no la Francia e la Danimarca anche per questi dati qua si stanno attrezzando per diventare totalmente biologiche questa è una battaglia che dovremmo fare anche in Italia esposizioni in gravidanza queste sono esposizioni residenziali in gravidanza quindi legate alle mamme che vivono in zone trattate con pesticidi problemi di neurosviluppo per i piccoli infertilità e malformazioni dell'apparato sessuale cioè il criptorchidismo che vi facevo vedere prima l'aborto spontaneo e la morte per i Natali ritardo dello sviluppo fetale le malformazioni congeniti congenite e altri altre malattie tumorali sempre infantili questa è la letteratura che c'è indicata qua sotto le esposizioni residenziali dei bambini dirette non ve le faccio vedere perché non mi piace parlare dei bambini in questo modo c'è un documento che è stato pubblicato dal Sole 24 Ore che abbiamo scritto e che si trova facilmente in internet ed è scaricabile ed è il position paper cioè quello che pensa Isda Italia l'organizzazione Isda Italia su agrofarmaci e salute questo non ve lo faccio vedere quello che vi faccio vedere è questo che è leggete l'enciclica del Papa se non l'avete letta perché merita merita molto no no io l'ho reso obbligatorio ai miei studenti e quando io lo chiedo alle religioni quasi nessuno mai la letta ed in basta denuncia le multinazionali denuncia quelli che lavorano unicamente per il suo guadagno e dice che la nostra casa comune cioè la terra è in estremo pericolo e questa la chiesa non l'ha mai detta è vero e concordo con lei concordo con lei devo dire che anche negli ambienti scientifici c'è un po' di schizofrenia alcuni alcuni colleghi non ne vogliono sentir parlare altri colleghi sanno benissimo che quello che ha scritto il Papa è esattamente quello che sta succedendo e che penso che con un po' di dati anche se in maniera non così articolata come ha fatto lui nell'enciclica sia venuto fuori anche durante la presentazione grazie 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 grazie